Siamo molto contenti per i tre punti perché abbiamo fatto in un campo molto ostico e soprattutto con una squadra molto forte. È stata una partita comunque equilibrata, anche se il punteggio non lo dice, però nei momenti più importanti noi siamo stati più lucidi e abbiamo portato a casa la vittoria. Ma sicuramente abbiamo avuto un buon campio palla e poi la correlazione monodifesa, siamo stati molto bravi soprattutto in difesa a tenere in gioco tanti palloni e ci siamo dati la possibilità di giocarne altri e quindi abbiamo aumentato la pressione su di loro. Adesso l'importante è vincere e fare i punti, la classifica per il momento non conta tanto, anche perché la prima non sale diretta, quindi l'importante adesso è fare i punti e trovare dei meccanismi di gioco buoni che poi devono essere utilizzati al momento giusto.